Non solo regate e agonismo nei nove giorni in cui Napoli ospiterà la Coppa America sul lungomare di Via Caracciolo. Un lauto calendario di iniziative culturali e ricreative accompagnerà la manifestazione sportiva con eventi disseminati in città, molti dei quali ispirati ai temi della navigazione e del mare. Come la mostra Il vento e il vapore, che attraverso incisioni d'epoca, illustra le imbarcazioni e la vita di bordo nel passaggio avvenuto a metà dell'Ottocento tra le navi a vela e quelle a vapore. C'è la Coppa America degli americani e c'è la Coppa America di Napoli, di Napoli che sta vivendo la sua grande primavera e la Coppa America è un'occasione, ma è un'occasione innanzitutto di grande coinvolgimento della città. A Castel dell'Ovo saranno la mostra fotografica I mari dell'uomo realizzata da Folco Quilici e una rara esposizione sulla nave Asilo Caracciolo, su cui fra il 1913 e il 1928 fu condotto un esperimento di alfabetizzazione popolare che sottrasse 750 scugnizi dalle strade di Napoli. Al Museo di San Martino la sezione navale condurrà visite straordinarie e offrirà la possibilità di seguire le regate veliche dal magnifico belvedere dei monaci. E poi ci saranno concerti, spettacoli, la settimana dell'astronomia a città della scienza e ancora passeggiate e degustazioni, visite teatralizzate ai luoghi dell'arte, itinerari narrativi fra i monumenti, esplorazioni naturalistiche nel mare leggendario di Posillipo e di Gaiola. Grazie a tutti.